Diete a base vegetale Si stima che quasi il 6,5% della popolazione italiana sia vegetariana e lo 0,4% sia vegana, ma cerchiamo un po' di fare chiarezza su questi termini. Quando parliamo di vegetariano noi dietologi intendiamo il lato ovo vegetariano, ovvero un individuo che mangia cereali, frutta, verdura, beve latte, mangia formaggio, i legumi e mangia anche i formaggi. Questo è il lato ovo vegetariano. Poi esiste una piccola quota di vegetariani che aggiungono saltuariamente i pesce. Il nome tecnico è i pesciariani, è un nome poco diffuso ma quando uno dice io sono un pesciariano è semplicemente un individuo che ha tolto la carne e i derivati della carne dalla propria alimentazione. Esistono anche gli ovo vegetariani che sono i vegetariani che hanno tolto magari per motivi di intolleranza o di allergia anche i latte e i formaggi dalla loro dieta. E poi esistono i vegani. Chi sono i vegani? Sono coloro che mangiano alimenti di origine esclusivamente vegetale. Quindi sono persone che non mangiano la carne, non mangiano i derivati della carne, quindi i salumi, non mangiano il pesce, non bevono il latte, non mangiano il formaggio, non mangiano nemmeno il miele perché è derivato dalle api. Questi sono i vegani che rappresentano il 0,4% della popolazione italiana. In questi ultimi anni il numero di vegetariani e vegani sta aumentando. Si stima che ogni anno aumenti del 10%, quindi ormai quasi tutti i ristoranti si stanno organizzando con un piatto a base vegetale nei loro menù. Ma perché si decide di cambiare alimentazione e di diventare vegetariano o vegano? Lo si fa per motivi diversi. Il primo motivo sicuramente più diffuso è quello etico perché non si vogliono uccidere gli animali per la propria alimentazione e nutrizione, ma esistono altri motivi tra cui quello ambientale e quello salutistico e anche il motivo religioso. Per quanto riguarda il motivo ambientale si sa che una dieta a base vegetale ha un impatto sul nostro pianeta molto più basso rispetto a una dieta onnivora. La produzione di carne e di pesce al chilo determina una grande produzione di anidride carbonica, mentre un'alimentazione a base vegetale preserva maggiormente l'ambiente. Quindi esistono anche persone che lo fanno per motivi ecologici. Anni fa non esistevano i vegetariani ecologisti, lo si faceva soltanto per motivi etici. Invece devo dire che ai giorni d'oggi esiste anche una quota di persone che per bene dell'ambiente decidono di passare ad un'alimentazione a base vegetale. Esiste anche un motivo salutistico. Qual è il motivo salutistico? Sempre più dati scientifici confermano che l'eccesso di proteine animali può nuocere gravemente la salute, provocando malattie cardiovascolari, provocando obesità e alcuni tipi di tumore. Attenzione alla frase che ho detto, l'eccesso di proteine animali. Quindi non il consumo moderato come nella nostra dieta mediterranea. Non esiste uno studio al mondo che dica che la dieta mediterranea nuoce la salute e aumenta il rischio di cancro, in modo particolare del cancro all'intestino. Non esiste. La dieta mediterranea ad oggi è ancora la dieta migliore del mondo. Ricordo che è patrimonio universale dell'umanità. E nella dieta mediterranea, che è quella che seguo io, esiste anche il pesce e in modi che quantità anche la carne. Però molta gente, dopo che sono uscite alcuni dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha iniziato a abbandonare completamente la carne per ridurre il rischio tumorale. Quindi vegetariani non solo per motivi etici, ma anche per motivi salutistici. Io voglio rassicurare adesso a tutti i familiari, spesso ricevo telefonate, mail da parte di nonne, di mamme, e mi dicono mio nipote, mio figlio è diventato vegetariano, è diventato vegano, sono preoccupato per la loro salute, è pericolosa un'alimentazione del genere. Allora, il mio consiglio è no, potenzialmente non è pericolosa, però deve essere fatta bene. Allora, diciamo che l'atto ovo vegetariano ha pochi rischi nutrizionali, perché se bevo latte, mangio i formaggi, mangio le uova, mangio i legumi, i cereali integrali, la frutta e la verdura, l'olio d'oliva, il burro, difficilmente andrò incontro a carenze nutrizionali. Il discorso è diverso invece per i vegani. I vegani non mangiano le uova, non bevono il latte, non mangiano i formaggi, non prendono il burro, non prendono il miele e quindi tutta la vitamina del gruppo B12 che è contenuta negli alimenti di origine animale viene a mancare. Allora, cosa deve fare un vegano? Deve prendere l'integrazione, quindi l'integrazione di vitamina B12 per un vegano è fondamentale e indispensabile. Secondo le ultime linee guida americane, anche l'integrazione di B12 è consigliata almeno un paio di volte, della settimana anche nei vegetariani, cosa che però non appartiene alle nostre linee guida, perché la vitamina B12, un latte ovo vegetariano, la prende tranquillamente con i latticini e i loro derivati e con le uova. Un consiglio in famiglia, se avete un figlio o un nipote che ha deciso di passare ad un'alimentazione a base vegetale, non cercate lo scontro, dovete comunque accettare questa decisione e invitare il ragazzo o la ragazza a fare una dieta vegetariana o vegana ma fatta bene. Quindi, ok, niente carne, niente pesce, ma non solo pasta insalata. Questo è un po' il mio motto, quindi cercate di regalare libri di cucina vegetariana o vegana, di iscrivere a corsi di cucina vegetariana e vegana, perché sono alimentazioni che richiedono un po' più di attenzione per andare a coprire tutti i fabbisogni, ma mai mettere lo scontro su un piano etico, perché non la vincerete mai. Piuttosto aiutate a fare le giuste scelte, le giuste abbinate e a creare dei piatti vegetariani e vegani, però nutrizionalmente ricchi. Nella prossima puntata vi darò proprio un taglio pratico su cosa cucinare e quali sono gli ingredienti da non far mai mancare sulla tavola di un vegetariano o di un vegano. Con questo vi saluto e vi aspetto la prossima settimana. Grazie a tutti.